Regione Toscana, il consiglio regionale. Il consiglio regionale ha approvato la nuova legge sull'edilizia residenziale pubblica. Dopo il primo passaggio in aula andato a vuoto nel mese di luglio, il consiglio infatti approva questa nuova legge nell'ultima seduta, con un ampio dibattito che ha approvato il testo con 23 voti favorevoli e 11 astensioni. L'aula di Palazzo del Pegaso ha detto quindi sì a questo nuovo testo, che va a modificare le disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica e modifica i criteri di accesso ai bandi. Il consiglio ha trovato la sintesi in un emendamento con prima firmataria Elisa Montemagni della Lega e sottoscritto anche dal presidente del gruppo del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli, che prevede l'obbligo per i cittadini, che non autocertificano residenza fiscale in Italia, di presentare documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno la residenza fiscale. Con l'approvazione della nuova legge, gli enti locali potranno procedere alla preparazione e pubblicazione dei bandi di assegnazione delle case popolari in Toscana. La regione toscana è dotata di una legge che è una legge recente e che è una buona legge e che andremo fra l'altro anche a correggere recependo quella che è stata la sentenza della Corte Costituzionale per renderla meglio applicabile e per evitare che ci siano ricorsi che intralcerebbero e ritarderebbero la redazione delle graduatorie da parte dei comuni e questo andrebbe soprattutto ad essere dannoso nei confronti dei cittadini, tutti i cittadini che in Toscana hanno il diritto e i requisiti per poter chiedere una casa popolare. Per il resto ci sarà la possibilità di fare investimenti importanti sul patrimonio che la Toscana ha, sono circa 50 mila alloggi. Già nella passata legislatura al sistema erano stati dati e investiti oltre 200 milioni, ora abbiamo già disponibili 90 milioni per quanto riguarda l'efficientamento e quindi per quanto riguarda l'intervento anche di ristrutturazione degli alloggi esistenti e nelle linee strategiche per l'utilizzo dei fondi europei e quelli del PNRR noi avevamo già previsto la possibilità, anzi data l'indicazione, di utilizzare questi fondi. Quindi la cosa più importante che è quella di avere disponibilità di alloggi troverà nei prossimi mesi e nei prossimi anni la possibilità di concretizzarsi perché risorse importanti sono già disponibili o saranno comunque accessibili. Per il resto occorre ovviamente una modalità di gestione che sia attenta a controllare che nelle case popolari ci sia chi ha i requisiti per entrarci, chi ha mantenuto i requisiti per starci, quindi lotta a furbetti e le case veramente a chi ne ha bisogno. Ma è una legge che a mio avviso andava già bene per quel lavoro straordinario che abbiamo fatto nella passata legislatura, un lavoro fatto di un anno e mezzo di concertazione, si è voluto migliorare un punto rispetto a una presunta illegittimità costituzionale, noi abbiamo presentato il nostro emendamento che poi di fatto è stato accolto perché dare un punteggio aggiuntivo a tutte quelle persone che da più anni stanno in Toscana, che lavorano in Toscana, che comunque producono reddito nella nostra regione, secondo me è positivo, quindi è corretto che possano andare avanti in gradatoria di una legge che già con le riforme che avevamo fatto consente finalmente anche alla classe media di iniziare a sognare l'edilizia residenziale pubblica, che non è più il concetto di casa popolare come l'ha visto una volta, ma inizia ad essere l'opportunità anche per la classe media che fatica anche ad andare in affitto, di poter partecipare e giocarsi l'assegnazione di un'edilizia pubblica. Innanzitutto siamo molto dispiaciuti che per una serie di ostruzionismi fatte dalla maggioranza e soprattutto dalla Lega si arrivi così tardi alla promulgazione di questa legge che i comuni stanno aspettando per fare i bandi e dare finalmente casa a tantissime persone che l'aspettano. Queste persone non meritavano questo ritardo. Siamo assolutamente d'accordo nell'abolizione di quei cinque anni che sono stati un indice di incostituzionalità per la legge Lombarda che noi abbiamo sbagliato e ripetuto, quindi bene che venga cancellato. Siamo meno d'accordo invece con le primialità per quelli che risiedono da più mesi in Toscana come è stato inserito dall'emendamento, però non è così penalizzante come potrebbe sembrare. Quindi ci auguriamo che questa legge venga varata presto, ma c'è da dire che la legge sull'edilizia popolare deve essere ancora cambiata e soprattutto bisogna investire di più per rendere abitabili e per rendere degne di una famiglia tutte quelle case, quegli alloggi che versano in condizioni disastrose, soprattutto perché è incredibile il fatto che in Toscana ci siano così tanti immobili sfitti, anche case popolari sfitte senza abitanti e ancora così tante famiglie che non ce l'hanno. Bisogna innanzitutto finanziare meglio le ristrutturazioni dell'esistente, bisogna pensare a dei possibili accordi probabilmente con i privati per le case che sono vuote e bisogna pensare a altri tipi di progettazione anche. Bene che ci siano i PIN, anche Cascina, Eneausofruito e altre realtà, quindi questo è un primo passo avanti, però ricordiamoci che stiamo per affrontare probabilmente un'emergenza sociale dovuta alla contingenza economica creata dal Covid e quindi le soluzioni vecchie non vanno più bene. Bisogna cominciare a pensare che le risorse che dovremo mettere fuori per aiutare le persone in difficoltà dovranno essere molte di più. Ad oggi possiamo dire che Fratelli d'Italia ha fatto un lavoro importante in commissione all'inizio dell'estate per modificare la legge che era uscita dalla giunta regionale introducendo come criterio premiale la storicità della residenza e quindi la legge che è uscita dalla commissione prevede un punto per tre anni di residenza anziché zero, due punti anziché zero per cinque anni di residenza, tre punti anziché due per dieci anni di residenza a salire 15 anni eccetera eccetera. Quindi abbiamo voluto e in commissione siamo riusciti a introdurre appunto il criterio della premialità della storicità della residenza nell'assegnazione degli alloggi popolari. Quindi a nostro giudizio la legge che è uscita dalla commissione nello scorso mese di luglio è una legge molto migliore rispetto a quella che era entrata in commissione e per questo motivo in questo modo ci siamo approcciati al lavoro della commissione. Cercheremo di migliorarla ulteriormente nei lavori di aula in particolar modo riteniamo che si possa agevolare un rapporto tra gli uffici dei vari comuni e i catastri degli stati esteri per capire se i richiedenti, se coloro che fanno domanda dell'alloggio popolare e hanno proprietà all'estero appunto siano o no diciamo legittimati a chiedere l'alloggio popolare in Toscana in particolar modo nelle città toscane. Sì, è una discussione che è avvenuta prima della chiusura estiva che riprende oggi. Noi ancora non abbiamo discusso i nostri 2.500 emendamenti, siamo in fase di discussione generale. Il nostro principio è quello che ancora non riconosciamo l'urgenza, la richiesta di urgenza nella modifica della legge sulle case popolari, però oggi siamo voluti andare avanti. Quindi abbiamo detto che andiamo incontro alla maggioranza sempre per uno spirito collaborativo nel rispetto di tutti i comuni e di tutti i cittadini che stanno attendendo i bandi e quindi una casa popolare. Accettiamo la rivisitazione della legge però noi chiediamo che oltre alla legge così com'è sia al suo interno inserito un principio ulteriore di uguaglianza e quello della residenza fiscale e quindi dei possedimenti patrimoniali anche all'estero. Perché un cittadino italiano e un cittadino toscano è immediatamente verificabile se ha dei possedimenti all'interno della Toscana o all'interno della nazione, mentre questo non è immediato per quanto riguarda un cittadino straniero. Quindi per il principio di equità così come lo dimostrano i cittadini italiani ci sembra giusto che anche i cittadini stranieri per poter avere una casa popolare in Toscana dimostrino prima che non hanno dei possedimenti nel paese di loro provenienza. Quindi questo è il principio cardine su cui oggi noi ci stiamo battendo per cui questa discussione si sta protarrendo per diverse ore. Il Consiglio regionale della Toscana ha fatto visita ai lavoratori della GKN davanti ai cancelli dello stabilimento a Campi Visenzio. Erano presenti il Presidente del Consiglio regionale accompagnato dai membri dell'ufficio di presidenza, dal capi gruppo e dai componenti della Commissione Sviluppo Economico. Ferma la posizione per cercare di bloccare i licenziamenti. Il Presidente Mazzeo ha spiegato ai microfoni che il Consiglio è pronto, utilizzando l'articolo 121 della Costituzione, ad approvare una proposta di legge di iniziativa regionale per bloccare le delocalizzazioni da inviare al Parlamento a supporto del lavoro che sta facendo il Governo in questa situazione. Era un impegno che avevamo preso con la mozione votata il 20 luglio in Consiglio regionale. Noi oggi siamo qui per ribadire che la priorità, l'unica priorità, è quello del reintegro completo dei lavoratori. La nostra è un'iniziativa di vicinanza, di sostegno, di ascolto ai lavoratori e alle lavoratrici della GKN. È un modo per sostenere la loro lotta e le loro iniziative. Il nostro compito è quello di legiferare per quello che possiamo. Lavoreremo esattamente in questa direzione per mettere vincoli molto forti a chi utilizza i nostri fondi europei, penali molto importanti. Quello che sta accadendo qui è qualcosa di indegno, perché davvero non si può pensare di chiudere una fabbrica che produce, una fabbrica che ha risultati positivi. È qualcosa di indegno da cui la politica non può voltarsi dall'altra parte. Ed è bello però che siamo tutti insieme, istituzioni, regione, città metropolitana, comune, ringrazio il sindaco per il lavoro enorme che sta svolgendo, ma soprattutto tutti i lavoratori insieme, sia lavoratori dipendenti, sia lavoratori che lavoravano con servizi esterni all'azienda. Noi saremo al loro fianco, saremo al loro fianco in tutte le iniziative, con un unico grande obiettivo. Reintegrare i lavoratori e far ripartire la produzione e guardare al futuro. Non possiamo cercare scorciatoi o soluzioni di ripiego. Una vicenda scioccante per le modalità e per le entità. Credo che in questo momento questa avvertenza sia forse sicuramente la più importante d'Italia, tra le due o tre più importanti in Europa. La cosa che veramente sciocca ancora di più è che delle 86 avvertenze in questo momento sono sul tavolo del Ministro, 86 sono vertenze per aziende veramente in crisi e una no. Quella no è questa. La GKN è un'azienda solidissima che produce elementi per le macchine che sono indispensabili, ha commesse importanti ancora per anni e anni e anni, quindi non si comprende veramente come dalla mattina alla sera, con una modalità incredibile, mandare in fede un giorno i lavoratori per far giungere via mail e via whatsapp la lettera di licenziamento. Il 22 di settembre, quindi fra sei giorni, questi lavoratori si ritroveranno veramente licenziati. È indispensabile la politica si muova con urgenza per impedire che questo avvenga, mantenere vivo il tavolo delle trattative, sperando di riuscire a farli reintegrare nel più breve tempo possibile e di dare vita e speranza non soltanto all'azienda ma alle 422 famiglie. A luglio, quando è stato chiaro quello che sarebbero state le intenzioni dell'azienda, abbiamo immediatamente attivato la viceministra Todd perché aprisse immediatamente un tavolo al Ministero e abbiamo cercato di essere vicini ai lavoratori, solidari con loro in tutti i modi e oggi questa solidarietà verrà portata anche a loro dal capo politico del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sempre insieme alla viceministra che cercherà appunto di spiegare qual è lo stato dell'arte della situazione perché riteniamo che un comportamento simile da parte di un'azienda sia assolutamente inaccettabile per le modalità e soprattutto per la situazione in cui in realtà tutti sappiamo che è l'azienda. Ed è per questo che è importante la nostra presenza qui per cercare di essere con loro solidari innanzitutto ma anche cercare di fare qualcosa per rimediare a quello che è successo. Come componenti della seconda commissione sviluppo economico della Regione Toscana siamo tutti presenti per seguire, come stiamo seguendo da mesi, il caso della GKN. Dobbiamo comunque constatare oggi, al di là degli interventi che si sono susseguiti, che la parte politica non sta facendo probabilmente tutto quello che potrebbe e sostanzialmente sposiamo quello che è l'appello che emerge da questo incontro, ovvero che chi ha la disponibilità e la possibilità di incidere sostanzialmente a livello legislativo faccia veramente la differenza.